Signori, quest'oggi giochiamo a Border Rivers che è un po' nel paniere eventualmente cercavo qualche informazione online ma c'è veramente pochissimo voglio vedere un po' come funge la situazione e tutta gente che sboxa roba dici ma fammi vedere il gioco come funziona poi devo sopraggiungere io naturalmente per questo arduo compito che tra l'altro riuscirò magari in maniera approssimativa perché il tempo è quel che è tra l'altro vi farò vedere una partita per quattro giocatori anzi due giocatori c'è anche il solitario naturalmente ma questo proprio non sono riuscito a guardarlo manco di striscio tra l'altro visto che il manuale in solitario include cioè proprio stand alone come dire cioè include tutta l'introduzione con la componentistica esattamente come nel rule book del multiplayer ora scorribande di saccheggiatori andiamo a fare raid in giro a deturpare le terre a sottrarre le povere pecorelle ai nostri avversari il player count per 2 e 3 giocatori è un po' disdicevole io cercherò tra l'altro di fare un esempio di gioco ma sarà davvero drammatico perché in realtà in due giocatori ogni giocatore ha due fazioni ok in tre giocatori la stessa identica cosa quindi capite benissimo che c'è un pochino di disagio nello specifico ci sono sei fazioni in totale o quelle che più prontamente si chiamano march tre scozzesi al di sopra e i tre inglesi al di sotto quelli ad est ok i due ad est sono esclusi in partite per due giocatori due giocatori uno farà i come si chiama Fenwick e Maxwell quindi un giocatore avrà un inglese e uno scozzese l'altro avrà questi altri due allora vediamo com'è fatta una mappa abbiamo la nostra marce chiameremo in generale la regione di Fenwick ognuna di queste marce è poi suddivisa in quattro sottoregioni vedete una, due, tre e quattro ci sono dei termini specifici ma io andrò brutale brutale una, due, tre e quattro ok quindi c'è questa suddivisione il confine naturalmente è irregolare mentre la suddivisione delle varie sottoregioni ha queste linee dritte ognuna di queste regioni è chiamata in realtà Farm Region e vedete che a inizio partita ogni Farm Region ha una pecora lì sopra ma naturalmente ne possiamo aggiungere delle altre andiamo a fare i ride e a rubare le pecore dell'altro le difese permanenti vedete nelle intersezioni sono queste qua ogni giocatore ha un set di queste difese permanenti ora alcuni sono nella scatola sono tutti che vengono attraverso le carte piazzati a difesa sono delle difese permanenti e ognuno di questi token ha il nome corrispondente che ne so non lo trovo adesso ecco Eric Wood Tower che sta qua sopra dove è? lì sopra ha il suo segnalino ok? c'è una carta che ti dice aggiungi una difesa permanente e tu metterai il token a tua scelta nel luogo corrispondente cosa servono le difese permanenti ovviamente lo dice il nome stesso non possono essere tolte e vanno a difendere dai ride le due zone confinanti poi abbiamo le città quelle che possiamo chiamarle città dove vedete lo spazio Gaul dove noi andremo a piazzare dei cubetti avremo proprio dei cubetti ci aiuteranno così a ottenere dei punti chiamiamolo diciamo in questo modo poi abbiamo i feud che è un altro tipo di zona che vedete qui dove lo chiama in realtà il family seat dove c'è proprio la sede del potere del giocatore questi sono tutti i spazi vedete qui che noi andremo a difendere nel corso del gioco andandoci a buttare al di sopra questi token di difesa quindi ci sarà una fase specifica nel turno dove i giocatori assegneranno le proprie difese a questi luoghi quindi potremo difendere il feud il Gaol la farm region stessa ok quindi cercheremo di proteggere dai ride poi ancora più importante queste sono le sedi della battaglia ci sono delle battaglie che avverranno pescate dal mazzo eventi che vedete laggiù tra il mazzo eventi ci sono proprio le carte battaglia che vengono c'è una carta che viene aggiunta poi ogni march che vedete qua ha un suo tracciato di notorietà il giocatore che inizialmente controlla quella regione in questo caso Fenwick ha il suo cubetto di partenza sullo spazio numero 3 ma nel corso della partita lo farà salire scenderà gli altri aggiungeranno la propria notorietà ok quindi c'è un rimbalzo in questi termini c'è in realtà una settima regione che è questa qui che è debatable land che praticamente non è nessuno a inizio gioco ha una farm origin e basta perché ci sono delle pecorelle due di partenza e ha un suo specifico tracciato notorietà che però nessuno dei giocatori ha inizio partita ha influenza lì poi ogni giocatore ha un suo box dove tiene i cavallini i cavallini sono questi che serviranno per l'attacco ok per incrementare i dadi di attacco ha i kettle sono le mucchine ok che in questo gioco sono la valuta di gioco da 1 e da 5 e poi qua andrà a mettere tutti i token di difesa questi sono gli tocchi di difesa compresi i token warden che acquisirà nel corso della partita sono tutto sfocato laggiù sono quelli lì che si prendono con delle carte allora so che per gli ossessivi compulsivi avranno dei disturbi a dire guarda che le pecorelle le metti tutte in piedi o le metti tutte estragliate in realtà in questo gioco fa differenza le pecorelle quando sono in piedi sono vulnerabili ai ai ride quindi possono essere rubate quando invece sono sdragliate ci sono delle carte non mi ricordo il nome tecnico comunque le proteggiamo dai ride quando sono sdragliate stessa cosa vale per i cavalli i cavalli quando sono in piedi sono operativi se sono sdragliati è perché sono stati usati per vari attacchi ok quindi non possono essere più riutilizzati poi ovviamente verranno ripristinati qui un'area che riguarda il combattimento ci sono tre turni di gioco in realtà questa cosa manda un pochino a male per la nostra concezione dove il termine turno in realtà indica un round in questo gioco ci sono tre turni quindi tre mazzi specifici ogni turno ci saranno le quattro stagioni nell'inverno c'è proprio la fase di battaglia dove i giocatori metteranno qua le proprie carte di battaglia le schede dei vari giocatori quindi ogni giocatore ha questa scheda in realtà in due giocatori ho detto che ci sono due schede perché controlli due fazioni abbiamo questi spazi dove mettere le carte river i warden queste sono carte che vanno in qualche modo a influenzare la quantità di dadi tantissime caratteristiche le carte held che vengono giocate qua coperte e poi si rivelano nel momento in cui la carta ce lo dice qua andiamo a piazzare in realtà dovrebbero mettere questi token per andare in battaglia a visualizzare quanti dadi tiriamo in attacco o in difesa e qua sopra molto importante questo tracciato delle pecore perché in una fase di gioco dobbiamo vedere nella nostra regione quante pecore in totale ci sono e la quantità di pecora andrà a influenzare questi tre parametri cioè il limite di cavalli che possiamo ottenere la hand size cioè quante carte ci possono stare nello spazio held qui e l'income dei cattle che sono i soldi quindi quanti soldi riceviamo poi ovviamente c'è il tracciato dei punti vittoria e qua c'è questa sideboard con gli eventi qua sono gli eventi qua ci sono gli eventi scartati le carte target che saranno giocate quindi fuori dal gioco dei giocatori e qua ci sono le carte summer che sono proprio queste le carte di gioco in base al turno qua vanno le autoplay quelle che vengono giocate di cui si applica l'effetto quelle invece che vengono scartate per esempio durante l'estate o perché facciamo le azioni di default come vedremo andranno a finire negli scarti quindi in qualche modo potranno essere recuperate allora l'opuscolo informativo ci ricorda la sequenza di gioco quindi ci sono le stagioni siamo a fase summer autunno poi l'inverno che è la fase di battaglia e poi spring vabbè la fase di ripristino allora durante l'estate vengono distribuite le carte le carte estate che sono appunto queste riceve sette carte ora quindi ho distribuito sette carte ad ogni fazione naturalmente in due giocatori ti devi gestire separatamente i due mazzi quindi simultaneamente i giocatori andranno a selezionare una delle carte ok e andranno a rivelare e attivare la carta simultaneamente ovviamente non c'è contrasto queste carte nello specifico non si contrastano fra i giocatori e quindi almeno per la prima partita potete farlo in ordine se c'è se c'è qualche casino che non capite eccetera comunque si rivela si attiva poi la carta c'è un draft viene passata a sinistra il primo turno a destra il secondo turno il terzo si tira il dadello pari dispari sinistra o destra e sarà casuale allora ci sono tre tipi di carte che a loro volta sono divise in varie sottocategorie allora abbiamo le carte reclutamento le carte che si giocano che si attivano e le carte hold che vengono messi nell'apposito spazio della plancia giocatore per esempio questa carta è una carta reclutamento perché vedete che c'è il simbolo del cavallino che corrisponde a questo spazio qua della plancia giocatore quindi queste sono carte che vengono giocate appunto nell'apposito spazio della plancia giocatore per esempio questo con questo simbolo qua è un warden quindi verrà giocato in questo spazio ok quindi le carte con questi simboli qua sapete che sono carte di reclutamento perché si mettono sulla plancia poi abbiamo le carte play ok queste sono delle carte che semplicemente si applica l'effetto del testo e poi viene rimossa dal gioco tipo questa qua che in realtà è intuibile dal testo che sono delle carte hold cioè che vanno messe nello spazio apposito della plancia giocatore ognuna di queste carte vedete che c'ha qua un costo in termini di mucche quindi dobbiamo spendere soldini quando giochiamo la carta ora in generale ci può stare solo una carta per slot quindi se io gioco questo river che metto qua il river è una è una carta che ti dà dei bonus dei dadi di attacco bonus dove c'è scritto in questo caso per i raid e per le battle ok però se giochiamo una carta dello stesso tipo ovviamente dobbiamo prendere questa qua e rimuoverla dal gioco le carte warden ci danno accesso al token warden corrispondente quindi quando giochiamo quella carta andiamo a vedere qua nello spazio warden e andiamo a cercare per esempio earl of angus questo sarebbe un token difesa molto potente perché è un warden quindi prendiamo il segnalino e lo andremo a piazzare nello spazio di difesa corrispondente ora questi token di difesa ogni giocatore ne ha due di partenza uguali per tutti un rumor che non serve assolutamente niente che non dà dadi e un deputy warden che è molto debole in realtà ti aggiunge un dado vedete che ci sono dei colori c'è il verde anche se per me non è verde e il grigio stessa cosa il verde solitamente serve per i raid il grigio serve per la difesa dei gaul quindi delle città o dei dei feud e ovviamente i warden sono potenti come potete vedere oltre a dare un DRM quindi un modificatore del dado per esempio questo è molto efficace contro i raid perché dà tre dadi in più di difesa siccome possiamo avere solo una carta per tipo se io gioco un'altra carta warden dovrò rimuovere dal gioco quella precedente e rimuovere dal gioco anche il token warden corrispondente quindi ogni giocatore ne può avere solo uno di warden ovviamente ora come detto all'inizio le carte rimosse dal gioco ok perché le abbiamo sostituite o perché ne abbiamo applicato l'effetto vanno a finire nell'out o play quindi sono fuori dal gioco per sempre le carte invece che non utilizziamo vanno a finire negli scarti ora questa fase di draft continua per sei volte quindi ogni giocatore attiverà sei carte all'ultimo al sesto giro il giocatore rimarrà con due carte sceglierà una delle due da attivare l'altra ok la carta che rimane va a finire negli scarti allora iniziamo subito con un esempio di gioco prima di passare alle altre fasi ogni giocatore ha selezionato una carta ok c'è da notare che un giocatore seleziona una carta e poi se non vuole non può fare niente perché che ne so ci sono tutte carte che costano e non ha più soldi può sempre fare un'azione di default ma al posto di applicare l'effetto della carta fa un'azione di default molto semplice ottenere un cavallo aggiungere una pecora a una sua regione tre monete tre cattle aggiungere una notorietà nella sua regione o fare un bustle one sheep che cos'è un bustle è l'atto di proteggere le proprie pecorelle cioè prendo la pecorella di una delle mie regioni farm region e la sdraio a quel punto sarà protetta dai raid ora la carta che io avrò utilizzato in questo modo facendo un'azione di default finirà negli scarti non nell'autoplay perché quella carta non è stata utilizzata ora concentrazione perché ovviamente faccio casino farò casino il signor Fenwick vuole giocare questo river ok questo river costa due mucchine le due mucchine e giocherà la carta in questo slot aggiunge due dadi per i raid gli attacchi a Feud e i Gaul aggiunge invece un dado la parte sotto ignoratela perché serve solo per il solitario poi il signor Ker gioca questa carta è una carta a light grain vedete questo simbolo va in uno di questi due slot lo mettiamo qua allora questa carta dà un bonus di attacco per qualsiasi tipo di attacco in realtà a SMM che sta per Scottish Middle March quindi contro Ker sarebbe lui stesso quindi non è valido ok però anche per EMM quindi English Middle March che è il suo diretto opposto in inverno aggiungerà una notorietà in una di queste due regioni quindi ha questo doppio effetto allora il signorino qua utilizza questa carta che è una carta play allora se English come in questo caso dacre o dacre quel nome lì è inglese quindi aggiunge tre pecorelle la carta ovviamente vandrà auto play una, due, tre e quattro regioni aggiunge tre pecorelle in qualsiasi combinazione mettiamone dai una qua non mettiamone troppe in una regione perché poi la gente ci bombarda eventualmente le distribuiamo più equamente allora dopodiché il signor azzurri Maxwell gioca questa carta costa un una moneta consente di aggiungere un castle castle garrison a una delle tue regioni oppure fino a due peels attenzione che sono ancora nelle fustelle allora sono questi qua ogni giocatore ha un set di questi quattro che comprende un castello che è questo qua che naturalmente è più forte vedete perché aggiunge due dadi in questo caso sono due dadi verdi quindi proteggono per i raid non per gli altri tipi di attacchi e poi ha un set di tre peels chiamiamoli così che invece sono più deboli perché danno un dado di difesa quindi con questa carta posso aggiungere o il mio castello oppure due di questi allora questi due affari andranno nei luoghi corrispondenti questo per esempio è Lunely Tower che è qua ok esattamente in quel punto lì nome corrispondente non ci si può sbagliare poi Loc Maben Peel che è qua ok questi qua andranno a proteggere le due Fire Region confinanti Dai Ride ovviamente questa carta è stata giocata quindi va nell'autoplay adesso girano le carte attenzione allora quindi passiamo al secondo giro abbiamo lui che gioca un Warden e quindi costa una moneta andrà a giocare in questo slot e andiamo a prendere Harry Percy quindi Fenwick aggiungerà questo qua è il Warden ai suoi token di difesa l'altro ma mette Earl of Angus costa una moneta poi ok allora questa qua è una carta una carta play che ti fa flippare due due pecore da due diverse regioni e sono i Bastals quindi proteggono le pecore andrà di due regioni diverse può dire questa e questa ok le gira così e sono protette dai Ride poi questa qui ovviamente è una carta play allora le carte play in aggiunta danno una moneta cioè ti pagano una moneta e vanno vanno a finire nelle questa è una carta hold no è una carta hold questa le carte hold danno una moneta va qui qui quindi Fenwick giochiamo questa carta non costa ci fa pescare un token di difesa a random allora nel setup abbiamo messo qui dei token di difesa schiamo uno quindi il signor Fenwick avrà un token di difesa in più da giocare i token di difesa come i Warden come tutti gli altri hanno un tot di dadi che danno se sono verdi sempre per i Ride se sono grigi per gli attacchi ai Gaul o ai Feud ora ho velocizzato la situa hanno fatto 6 azioni ognuno di loro è rimasto con una carta la carta che quindi rimane va a finire negli scarti allora passiamo all'autunno allora primo step dell'autunno è l'aggiornamento economico quindi questo tracciato qua delle pecore ogni giocatore va a contare quante pecore ha nelle sue regioni in questo caso il signor Fenwick ne ha aggiunte qualcuna 1,2,3,4,5,6 va ad aggiornare questo parametro quindi dopo aver aggiornato andiamo a vedere tre parametri allora in questo momento se hai più cavalli del massimo indicato ovviamente li devi scartare poi hand size allora 4 ne possiamo avere al massimo 2 c'è la quantità di carte che puoi avere qua nello spazio hold c'è cattle income naturalmente ognuno dei giocatori riceve quel numero di io le chiamo monetine sono monetine dopodichè vengono appescati gli eventi da questo mazzo per 3 o 6 giocatori 3 eventi per 2 o 4 2 eventi allora ci sono in sostanza due tipi di eventi ci sono le battaglie che andranno nel luogo della mappa corrispondente e lì si potranno affrontare delle battaglie questa è una battaglia un po' speciale perché non mette inglesi contro scozzesi ma cattolici contro protestanti le altre battaglie invece vedete c'è uno slot per un giocatore scozzese e uno per un giocatore inglese le altre carte invece vanno a modificare qualcosa del gioco tipo danno dei re-roll Mario Queen naturalmente ti dà dei re-roll questi invece ti aggiungono appunto di notorietà allora quindi peschiamo queste carte allora una battaglia e una non battaglia allora la battaglia va a finire nel luogo corrispondente questa è Red Swire che è qua le altre carte ok vanno a finire in questi slot per un massimo di tre ovviamente ora c'è una carta speciale è appunto quella dei protestanti contro cattolici Rising of the North che non va in un luogo specifico è una battaglia ma non va sulla mappa è una battaglia off board che verrà piazzata in uno di questi slot dopodiché si vanno a piazzare le difese ogni giocatore segretamente sceglie quanti e quali token difesa giocare nelle sue aree di gioco per andare a difendere ora come detto sin dall'inizio ci sono due tipi di modificatori i dadi indicati in verde per difendere il farm region contro i ride che andranno in questi slot ok dove vedete le pecorelle gli altri tipi invece vanno a difendere quelli grigi a gaul oppure il fenwick tra l'altro mi sono dimenticato una roba nel setup bisogna mettere i cubetti dal lato opposto quindi rossi che vanno a finire nel gaul e dove l'altro ah il feudo è qua c'è un token in particolare che è rumor che non serve assolutamente niente è praticamente un bluff perché non da dare di difesa quello può essere ovviamente messo ovunque quindi per esempio che ne so vediamo vado a mettere allora questo qua protegge le pecorelle vado a proteggere questa zona qua per esempio con questo il mio warden lo andrò a mettere qui poi questo voglio proteggere no facciamo proteggo questo e l'altro che è il bluff lo metterò qua quindi si mettono si mettono in questi slot posso anche metterne di meno naturalmente tanto tornano indietro eh quindi non vedo motivi per non usarli e l'altro giocatore ovviamente ne ha di meno cioè ha solo quelli di partenza non ne ha presi degli altri purtroppo perché ha tante pecorelle in giro direi che proteggo queste pecorelle anche se ci sono qua queste fortificazioni che proteggono allora poi passiamo all'inverno l'inverno è dove avvengono le battaglie ok allora prima di tutto ci sono quattro tipi di conflitti no che si possono risolvere e lo vediamo lo vediamo qua allora ci sono i ride che come detto vanno ad attaccare il farm region cercano di rubare rubi cattle quindi i soldi e rubi le pecorelle dell'avversario oltre a fare punti naturalmente quello sempre e comunque i feudi attaccare proprio il feudo attaccare i gaol o gaol e le battaglie naturalmente se sono state pescate negli eventi possiamo fare quelle quelle battaglie allora prima di tutto bisogna determinare l'ordine vedete che qua da una parte ho messo un cubetto per ogni giocatore allora nel primo turno assolutamente a caso ok si vanno a piazzare in questi slot così abbiamo un ordine allora il secondo turno invece si va in ordine inverso di punti vittoria ok quindi c'è qualche tipo di compensazione e nel terzo turno stessa cosa del secondo allora quindi i giocatori simultaneamente andranno a selezionare una carta target e l'andranno a piazzare sotto il proprio cubetto coperta che cosa sono le carte target ogni giocatore ha questo mazzo qua una carta warden che servirà poi per la difesa diciamo è speciale una sola e poi abbiamo sei carte target perché ne abbiamo sei perché ci sono tre turni e ogni turno ci sono due round di combattimento in cui dovremmo scegliere una carta quindi si giocano una volta giocate queste poi vengono rimosse dal gioco ora cosa sono le carte target vanno a determinare i target cioè che cosa possiamo attaccare ok e dove quindi in questo caso abbiamo same side e vedete che qua per esempio fanwick non può fare un ride a se stesso tra l'altro in due giocatori non posso mai fare un ride all'altra mia fazione che controllo posso fare altre cose ma non un ride attenzione allora se un cubo è presente nel feud o nel galbrick posso fare anche questo tipo di attacco poi abbiamo english quindi la carta english o scottish dipende dalla fazione che è una wild card che ti fa targettare qualsiasi regione per una battaglia è anche valida per un ride un feud un galbrick in un in un scozzese cioè molto molto semplice cioè vado a vedere quella zona e che cosa posso fare molto molto semplice il più uno sono dei modificatori naturalmente per il dado il modificatore di questo turno è uscito questo evento che dà due punti aggiuntivi per i galbrick ok quindi per quel tipo di attacchi quindi sarebbe opportuno magari fare quel tipo di attacchi quindi vorrebbe targettare per esempio il gaol del giocatore blu quindi ker ora il rosso cioè fenwick ha un suo cubetto nel gaol da setup quel cubetto è un vantaggio è un feudo praticamente è un qualcosa che ha lui lì quindi ogni cubetto del suo colore gli fa tirare un dado in più in quel tipo di battaglia quindi potrebbe essere un target interessante vediamo se c'è qualcosa utilizzare questa carta opposite march quindi quella opposta nella smmm quindi scottish middle march posso fare un ride o un battle o sotto vedete se un cubo è presente anche un feud o un galbrick quindi questa sarà la mia carta target allora abbiamo piazzato le carte quindi si va a rivelare simultaneamente quindi sappiamo più o meno perché in realtà non è che lo sappiamo con precisione perché poi il target specifico viene segnalato nella fase successiva allora dopo questa questa cosa si guadagna notorietà siccome ci sono due round due round di combattimento ogni turno questa cosa della notorietà si fa solo il primo round allora come aggiungiamo della notorietà attraverso le nostre carte possiamo avere delle carte held che sono qui delle carte light grain tutto ciò che ci dice in inverno gioca per applicare notorietà intuitività paraponzi ponzi pa allora vediamo qua per esempio abbiamo questa ok calleton questo ci dice in winter aggiungiamo una notorietà in queste regioni qua o debatable land che è quella di nessuno ok quindi questo è un modo vediamo qua cosa c'è ah ecco anche questa che la gioca subito quando il tuo turno in piazzare notorietà immediatamente aggiungi una notorietà nella tua marce e due in qualsiasi combinazione ah ok allora iniziamo dall'azzurro non è detto che i giocatori tutti abbiano questo per esempio non ha niente che aggiunge notorietà allora qua puoi aggiungere in aspetta un attimo aspetta 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 swm quindi e wm qua e abbiamo uno 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 sto schiumando a utilizzare quattro personaggi simultaneamente porra per quella puttanaccia schifosa allora questa che viene poi bruciata uno nella sua regione di base e questo due in qualsiasi combinazione allora io vado dov'è che voglio attaccare non ho capito ancora cosa devo fare allora non fa non lì guarda ah tra l'altro lì manca un cubo come mai manca il cubo del blu è la sua regione allora aggiungo due qua faccio così va allora vediamo arancione ah arancione ha questo ha questo che dice winter due notorietà qualsiasi combinazione fra east english west allora facciamo così facciamo così uno qua bababà e uno qua ok poi vediamo se lui ha delle robe qua istantanee no non valgono ora bisogna selezionare i target allora ognuno dei giocatori ha due di questi segnalini target perché ripeto un'altra volta ci sono due round di combattimento quindi vanno a indicare con precisione dov'è il nostro target e siccome attenzione un target può essere selezionato una volta sola non possiamo attaccare la stessa cosa per due volte il segnalino rimarrà lì ad indicare che quello non è più attaccabile quindi il nostro target dovrà corrispondere alla zona o al tipo di attacco della nostra carta target quindi rosso allora rosso cosa voleva fare voleva fare una ah ah non mi ricordo giocando con quattro cosi aspetta eh ah sì si voleva fare un gall brick gall brick allora davanti a lui quindi quella apposta qua che c'è il suo cubetto quindi farò così tac questo qua è il mio obiettivo c'è del rosso arancione in realtà sto andando in ordine casuale ma non ha dovrei andare in ordine vai iniziamo dall'azzurro che cosa voleva fare l'azzurro adesso boh ah voleva partecipare ah attenzione sì sì voleva partecipare una battaglia battle ok chi c'è questa qua e si mette qua dal suo lato non lo vedete per la luce vabbè ma fidatevi scottish qui quindi l'attacco è quello allora come ho detto prima ogni target può essere selezionato una volta sola feud gull farm region eccetera l'unica eccezione è la battaglia può essere selezionata due volte però uno scozzese un inglese poi basta allora vediamo il blu care allora care vuole targettare quella opposta c'è anche un feud un call break che si potrebbe fare perché no perché non fare quello per usufruire sfruttare anche il bonus dei punti allora facciamo facciamo qua questo questo allora arancione vediamo che cosa vuole targettare same side same side allora facciamo perché non fare un proviamo anche un ride anche se ci sono delle difese in giro proviamo a fare un ride qua ad attaccare la farm region riprendiamo da qua in realtà mi sono accorto solo adesso che per tutto questo tempo stavo utilizzando il microfono interno della videocamera quindi spostandomi ci saranno stati un po' di abbassamenti di volume comunque è andata così ora risolviamo le battaglie giusto allora iniziamo dal dall'azzurro ok che è qua si c'è questa luce qua però va bene tac tac allora le battaglie allora come si risolve un attacco prima di tutto il giocatore che sta attaccando in questo caso l'azzurrino deve decidere quanti cavallini utilizzare in combattimento per qualsiasi tipo di combattimento ride gaul eccetera allora ne deve utilizzare almeno uno e almeno uno deve lasciarlo indietro per il secondo round di combattimento quindi decide che ne so utilizzo questi due ovviamente quelli utilizzati per il primo round non possono essere utilizzati per il secondo allora dice io utilizzo questi due e li assegna quindi alla battaglia sua corrente il difensore cioè in realtà in questo caso non c'è un vero e proprio difensore il difensore è il campo di battaglia ok in tutti gli altri casi il difensore per un ride of gaul feud eccetera eccetera il giocatore il colore della sua zona ovviamente allora deciderà cioè prima di tutto andrà a girare il difensore il suo token difesa ok della zona di attacco per esempio poi il giocatore il difensore potrà decidere di spendere se vuole la sua carta warden ok che da più uno a tutti i dadi tirati tutti i dadi più uno e ti fa swappare spostare muovere un token difesa ok questa qua ovviamente è una carta potente però una volta che la usate poi viene rimossa poi vengono giocate eventuali carte hold che sono qua che utilizzabili nella dicitura se in combattimento se 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 come dice la carta poi si va a determinare i dadi che che si tirano allora sia l'attaccante che il difensore allora l'attaccante in ogni caso adesso stiamo vedendo per esempio aspetta è l'azzurro qua per il river che è questo qua questo qua ci dice durante una battle un dado i cavalli ne abbiamo piazzati due quindi abbiamo altri due dadi allied grain allora bonus attack stiamo facendo questo attacco emm quindi questa carta non è valida ok non è valida no notorietà allora notorietà se siamo in prima posizione nella notorietà di quella regione abbiamo due dadi in più se siamo in seconda o in parità per la prima posizione un dado in più in questo caso niente solo se si sta facendo un ride aggiungiamo un dado per ogni pecora in quella regione non protetta cioè quelle non sdraiate cubi se stiamo facendo un attacco in un feudo o in galbrick un dado in più per ogni nostro cubetto held card ovviamente le carte che abbiamo giocato per l'attacco gli offices che possono dare le carte office eventualmente se ce l'abbiamo possono dare dei dadi in più dopodiché il difensore ok il difensore mette i suoi dadi di difesa se stiamo difendendo ci stiamo difendendo contro un ride Pills e Garrison sono le difese permanenti di cui parlo sin dall'origine che difendono le due zone adiacenti i Castle danno due dadi in più i Pills uno solo defense token quelli che vengono girati i token difesa si rivelano e danno dei dadi di difesa durante le battaglie gli unici dadi di difesa sono i Battle Dice che sono indicati sulla carta battle stessa vedete che quel 5 è fittizio in realtà l'unica cosa che conta è la quantità di icone dado quindi c'è un dado solo di difesa alcune battaglie ne hanno due alcune ne hanno uno allora le battaglie 1,2,3,4 sono dei miss 5 o 6 sono i colpi la difesa invece ogni 5 o 6 blocca un successo iniziamo con l'attacco ci sono due successi ok due successi allora la difesa un 3 un 3 non blocca niente quindi praticamente ci sono due successi ok allora quindi il giocatore subito fa punti in base a quello che c'è scritto sulla carta battle in questo caso 3 punti per colpo sono due colpi non bloccati e si fa 6 punti nelle battaglie il giocatore mette sulla carta battaglia una quantità di cubi del suo colore pari ai colpi andati a segno il secondo round di combattimento si andrà a vedere chi ha la maggioranza di cubi dipende che cosa fanno i giocatori ci può essere magari un campo di battaglia non contestato nessuno ha fatto è andato sulla carta allora semplicemente si scarta se un giocatore solo è andato lì vince automaticamente e farà quindi i punti notorietà indicati sulla carta se due giocatori sempre un inglese e uno scozzese hanno contestato la stessa carta si va a vedere chi ha più cubi poi ovviamente bisogna ripulire cioè i cavallini che ho usato me li riprendo ma li sdraio li sdraio perché sono stati utilizzati giro a me il mio segnalino di attacco di indicare che ho fatto il mio attacco quindi passiamo a il giocatore blu allora il giocatore blu che cosa voleva fare ah eccolo qua si voleva fare questo l'attacco al gaol e andiamo a vedere il token di difesa no defense era un blef cavalli ne ha piazzati due tira altri due dadi allied grain vediamo aspetta allora attacchi in attacchi in emm si esattamente dove stiamo attaccando quindi c'è c'è un dado in più poi notorietà niente perché no perché il blu non ha nessuna notorietà e attenzione un dado in più perché c'è il suo cubetto vediamo invece la difesa in realtà non c'è difesa non c'è difesa perché il token difesa questo non ha niente non c'è niente lì per quanto riguarda i gaol brick allora successi con 5 o 6 bello 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 ok abbiamo questi risultati qua allora durante il gaol brick quindi l'attaccante guadagna 2 punti per ogni colpo andato a segno ovviamente che non è stato bloccato guadagna un cavallo dalla banca per ogni colpo ma non più del doppio dei cavalli no dei cubi che ha lì quindi al massimo potrebbe guadagnare due cavalli ha 4 colpi ma può guadagnare al massimo una quantità di cavalli pari al doppio dei cubi che ha lì quindi al massimo quindi prende due cavalli rimuove un cubo da questo box per ogni colpo andato a segno ovviamente questo lo va lo va a rimuovere non ha più non avrà più il vantaggio di prima e fa un totale di 2,4,6,8 punti da notare che in questo caso per la difesa i 7 o più perché ci possono essere i modificatori più 1 naturalmente sono risultati migliori che se ottenuti l'attaccante perde un cavallo e il difensore si guadagna 6 punti attenzione c'era questa carta se l'attaccante ha liberato almeno un cubo con questo con questo combattimento guadagna due notorietà in quella regione ma siccome c'è la carta questa qui ne guadagna 4 quindi va assolutamente in testa in quella regione ottimo e il difensore droppa di 1 difensore ovviamente il rosso scende di 1 in questa regione ok poi arancione che cosa voleva attaccare aspetta ah no l'arancione ah l'arancione voleva fare un ride attenzione un ride arancione ci butta 4 cavalli ne ha 5 quindi uno lo lascia indietro vabbè andiamo a vedere la difesa ha 2 dadi e un ride quindi non ha river 4 dadi per i cavalli non ha allied grain notorietà in quella regione l'arancione in terza posizione cioè in questo momento questa regione qua è in terza posizione quindi non ha dadi bonus poi ha 2 pecore non protette quindi sono altri 2 dadi allora difesa difesa sono 2 dadi di difesa ok non ci sono fortificazioni adiacenti quindi niente allora per quanto riguarda i ride allora 1-2 sono sempre dei miss 3-4 si chiama un cattle hit che ruba una moneta all'avversario e fa un punto 5-6 invece sono i sheep hit quindi ruba le pecore e fa 2 punti per ogni colpo ok da notare che ci sono 2 pecore che ne so fa 4 colpi ruba 2 pecore e fa 2 per 4 punti quindi i punti li fai lo stesso anche se non prendi abbastanza pecore comunque i punti per i colpi li fai tutti allora questi qua sono 2 cattle hit e 2 sheep hit poi il difensore allora per il ride abbiamo attenzione più 1 a tutti i dadi questo blocca attenzione questo è un super mega blocco è un hanged perché è un 7 attenzione che i risultati di difesa potenti cioè quelli i 6 i 7 quelli che danno un capture quello che danno un hanged questi qua possono essere applicati una volta sola cioè solo per il primo 6 solo per il primo 7 tutti gli altri retrocedono a blocco ok attenzione che i 6 e i 7 non sono dei blocchi a loro volta non sono dei blocchi ma in questo caso c'è un solo 7 con 2 7 uno retrocedeva a capture se c'era già un capture quindi già un 6 retrocedeva a 5 che cosa che cosa significa il 7 in difesa significa che l'attaccante perde deve eliminare un cavallo un cavallo di attacco e il difensore guadagna 6 punti quindi 6 punti per il rosso poi calcoliamo i colpi allora i colpi a segno sono questi come notate come ho detto il risultato potente il hanged il 7 non è un blocco a sua volta quindi non blocca nessun dado allora questi qua abbiamo due cattle hit quindi ruba due monete a rosso se non è abbastanza ovviamente ruba tutto quello che può e fa un punto quindi sono due punti poi ha tre colpi tre cattle hit no tre ship hit scusate allora ruba ne può rubare solo due ovviamente ok perché ha tre successi ma ci sono due pecore ruba quelle lì e le va a ridistribuire nella sua area potremmo metterle una qui e una qua ok e fa dei punti fa due punti per ogni colpo quindi 2 4 6 poi c'è un'altra cosa da fare i cubi se l'attaccante ha guadagnato almeno un punto nell'attacco il difensore ha guadagnato un feudo nella famiglia attaccante quindi aggiungere un cubo del difensore quindi un cubo rosso nel feudo dell'attaccante quindi attenzione dov'è il feudo dell'attaccante quindi questa è questa è la compensazione quindi il rosso potrà andare a bombare la situa lì ah tocca quindi al rosso che che cos'è che attaccava il gaol anche lui allora rosso rosso buttiamocene due di cavalli andiamo a rivelare la difesa abbiamo il deputy warden quindi sarà un cubo di un dado di difesa il rosso che cos'ha il river ce l'ha dov'è si allora da un dado per il gaol break ok due dadi per il cavalli al light grain non ce l'ha notorietà no in quella regione non ha questa regione non ha notorietà zero non ha altri dadi no allora in difesa c'è un dado di difesa praticamente ah giusto si ha un dado in più perché c'è il cubetto ovviamente non ci dimentichiamo andiamo a vedere un po' la situa abbiamo un 6 abbiamo un 1 di difesa che non blocca niente allora solita la stessa cosa di prima quindi praticamente questi cavalli saranno spesi ma ne guadagna uno perché ha un successo avuto quindi guadagna un cavallo dalla banca fa due punti perché ha fatto un colpo e siccome ha liberato almeno un cubetto guadagna due notorietà tuttavia c'è la solita carta quindi ne guadagna quattro e così va in testa ora finito il primo giro di combattimenti ovviamente le carte che sono state utilizzate vanno out of play poi solo il primo turno del gioco l'ordine qua viene ricalcolato e si ripete la solita tara a terra di prima quindi ogni giocatore andrà a piazzare una carta target si rivela si va a piazzare il secondo token di attacco per segnalare l'obiettivo dell'attacco come detto prima noi teniamo i token qui ad indicare che questo qua il giocatore non può bersagliare allo stesso luogo l'unica eccezione abbiamo detto è la battaglia si fa lo stesso giro il secondo giro però non c'è più la cosa della notorietà lo step della notorietà quella si salta completamente poi ci sono gli awards dopo il secondo giro delle battaglie ora se una battaglia non è stata contesa quindi nessuno è andato lì ok non è contesa da nessuno si scarta l'evento va negli scarti e in realtà non apparirà mai più come tutte le battaglie ovviamente se invece è contesa solo da un lato ok quel lato è indicato come vincitore anche se non ha cubetti lì sopra attenzione quindi lì posso andare lì tiro però metto zero cubi ma nessun altro mi contrasta e io vincerò quella battaglia che cosa succede se vinco la battaglia guadagno notorietà come indicato sulla carta i punti li faccio subito in base ai colpi ok la notorietà la faccio se vinco la battaglia dopo il secondo giro ok questo è in realtà combattimenti così molto molto semplici poi passiamo alla primavera c'è una fase di reset praticamente tutti gli indicatori di attacco ritornano ai rispettivi proprietari i cavalli che sono stati sono esauriti ok li rimette in piedi quindi sono di nuovo operativi la debatable land questa qua ok che ha sempre due pecore ci metti due pecore cioè esattamente due pecore non è che ne aggiungi due devono essercene due sempre scartare gli eventi ovviamente questi qua compresi le battaglie ok quelle vengono scartate defense token ovviamente tutti questi defense token ritornano ai proprietari quindi possono essere poi riassegnati si fanno i punti alla fine di ogni turno due punti per ogni cubo che ho nel mio gaol quindi i cubi degli altri che sono nel gaol sono due punti per ogni cubo si incassa la notorietà alle due famiglie che hanno più notorietà in ogni regione si vede ogni regione singolarmente in realtà è anche indicato nell'opuscolo informativo e qua qua in base al turno primo secondo posto vale sempre di più poi abbiamo delle bonus actions quindi il giocatore che alla fine del turno è quello che ha meno punti ha una compensazione cioè va a selezionare una carta negli scarti la sceglie lui una carta negli scarti e gioca la carta applica l'effetto senza pagare l'eventuale costo di mucche quindi di soldi a gratis se la gioca va nell'autoplay quelli invece nella seconda metà in termini di punti vittoria cioè vale a dire sei giocatori il sesto e l'ultimo gioca la carta il quarto e il quinto nella seconda metà hanno un'altra compensazione ovvero fare un'azione di default molto semplicemente in tre giocatori presumo che il terzo gioca la carta il secondo farà l'azione di default e si continua così per tre round allora fine partita ci sono dei punti molto molto semplici ogni due cavalli tre punti ogni due pecorine due punti ogni mucchina un punto ogni due insomma quello che c'è scritto con rabbia e con furore perché sto schiumando questo è come di giocare più di così se non hai compreso ti devo imporre assolutamente di cambiare hobby ovviamente questo è un gioco che ha un gran impatto aleatorio perché qui c'è il race stand e ho detto tutto e ho detto tutto poi eventualmente tirare una pataccata di dadi buttare giù un sacco di carte un sacco di cavalli eccetera eccetera e ottenere magari neanche un successo questo fa girare le palle no? però vabbè fa parte del gioco ci vediamo per un altro gioco saluti e mmm Sì